10, 5, 4, 3, 2, 1, vai, 300, destra 3 meno meno, chiude e apre, chiude e apre, 500 a vista, taglia a sinistra, 4 meno meno, chiude, 500 a vista, sinistra 6, vai, 400, a cartello, gincane tratta destra, 300, ai bidoni, destra 6 meno meno, subito gincane tratta destra, 200, taglia a destra 6, vai, 300, a re, taglia a sinistra, 4 meno meno, chiude, 300, tornante destro, subito sinistra 6, vai, 300, tornante sinistro, tornante sinistro, 300, destra 5 meno meno, subito gincane tratta sinistra, queste sono quelle più strette, 300, destra 2 meno meno, chiude molto e apre, 400 a vista, al cartello, sinistra 6 meno meno, 800, al cartello, destra 6, vai, 500 a vista, destra 6 meno meno, lunga lunga, 300 a vista, e taglia molto, sinistra 4 meno meno, chiude, taglia molto, subito destra 6, vai, 400 a vista, taglia a destra 4 meno meno, chiude, 4 meno meno, chiude, 400 a vista, taglia molto, sinistra 3 meno meno, subito, taglia a destra a 6, vai, 200, addosso, sinistra 6 meno meno, lunga lunga, 400 a vista, al bidone sinistra 5 meno meno, 5 meno meno, 200, al palo destro 5 meno meno, 300, attenzione, inversione destra, occhio al combino, 200, taglia a sinistra, 4 meno meno, chiude, 200, taglia a destra 3 meno meno, chiude molto, 500 a vista, al palo, sinistra 5 meno meno, chiude molto, 5 meno meno, chiude molto, 200, sinistra 3 meno meno, chiude molto, subito molto, subito a destra 3 meno meno, chiude, 300, sinistra 5 meno meno, 200, sinistra 3 meno meno, chiude e apre, 300, tornantone a destra, seconda, 200, sinistra 6, vai, 200, taglia a destra 6 meno meno, chiude, 500 a vista, stop, 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 stop.